Sei tu che non c'era mai. Allora, siccome hai dichiarato che non la vuoi, non capisco perché ti arrabbi se si fa scendere un altro. Perché mi cerca quattro giorni fatti e ci vuoi da te. Ho capito, ma tu non la vuoi. No, ti ho chiamato e ho detto, ma la vedi, dice al centro studio, no, anche se lei ti riprova, tu la vuoi o no? Io, no. E allora che te frega di quello che fa lei? Ti voglio fare una pizzo che tu noti sempre tutto su tutti, ma come mai lei non noti che sta da quattro mesi fatti? Perché lei sta dicendo, io ci provo con Armando, Armando che non ci vi picca, ma no. Non è solo sposato con Armando, se scende uno magari lo dimentico. Eh, ma che mi aspetta? Perché no? Che deve fare? Voglio Armando, Armando non mi vuole, deve andare a casa. No, dimostra. Allora lo fai anche tu. No, dimostra. Lo fai anche tu. Dimostra, ma fai rispondere? Eh. Sì, dimostra che realmente mi vuole e mi dedica del tempo. Ma più di più amare. Una settimana ci fa vedere tre, quattro volte, anche perché sta a Roma. Allora sei interessato. Non ci sta mai. Allora sei interessato. Non ha una conoscenza che non mi porta a nulla per mancanza di tempo da parte di una persona che dice che vuole solo a me. Perciò l'ho detto escici tu, ma escici tu, era per dirti, non c'è. Cioè escici tu. Quindi Armando, se io ti dico stasera asciamoci, vediamo che dici... No, perché a me è qua dentro, mi piace un'altra persona. Ah, ok. Lo potevi dire prima allora, invece di stare l'altra volta al telefon. Quando? Quando l'ho chiamato? Ma chi d'ha risposto? So...